e what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo vlog del sabato ebbene ragazzi quest'oggi voglio leggere assieme a voi questo interessantissimo articolo che mi sono ritrovata di fronte su facebook qualche giorno fa l'argomento è estremamente interessante appunto come vi dicevo ragazzi perché è un argomento totalmente attuale che riguarda anche noi perché si parla appunto di come la tecnologia stia influenzando del tutto l'essere umano e addirittura le sue capacità intellettive proprio ragazzi capacità cerebrali infatti il titolo dell'articolo è la tecnologia ci sta atrofizzando gli esseri umani sono meno intelligenti di un secolo fa questo titolo potrebbe forse farci anche un pochettino arrabbiare perché è come se stesse dando all'essere umano di oggi giorno all'essere umano del ventunesimo secolo dello stupido e non è come se è proprio così ragazzi ma non in senso offensivo è proprio a quanto pare un dato di fatto ragazzi che l'essere umano di oggi quindi essere umano del ventunesimo secolo è più stupido dell'essere umano di un secolo fa perché ragazzi come voglio condividere con voi questo articolo perché secondo me al suo interno sono dette tante veramente tante verità che appunto riguardano l'utilizzo che stiamo facendo della tecnologia e il modo in cui quest'ultima stia andando ad intaccare nel vero senso della parola ragazzi le nostre capacità intellettive adesso appunto andiamo a leggere insieme all'articolo sarà un pochettino lungo ma ci tengo veramente tanto ragazzi a condividerlo con voi per sapere anche quali sono i vostri pareri a riguardo l'articolo dice stiamo diventando sempre meno intelligenti dal secolo scorso il nostro coefficiente intellettuale sta peggiorando drasticamente ad esserne responsabile e seppur in parte la tecnologia che ci ha reso sempre meno in grado di concentrarci su un singolo compito in maniera efficace una vera e propria involuzione acclamata ormai da diversi studi che dimostrano come il progresso intellettuale sia durato fino alla fine del ventesimo secolo poi il buio da allora il cui non ha smesso di precipitare una delle cause secondo varie ricerche è l'uso massiccio della tecnologia e i compiti che il nostro cervello delega ad essa ad esempio il nostro cellulare è in grado di ricordarci un appuntamento come raggiungere un posto tutte cose che impigriscono le nostre capacità intellettive la tecnologia intelligente insomma ci sta effettivamente rendendo meno produttivi o per meglio dire ragazzi più stupidi proprio così e alcuni scienziati battono su questo punto la tecnologia è davvero brava a renderci più occupati è vero ma occupato non è la stessa cosa di produttivo all'aumentare della nostra dipendenza dalla tecnologia la nostra produttività effettiva diminuisce l'assunto da cui partono svariate indagini per tecnologia intelligente si intende qualsiasi dispositivo con cui interagiamo che rimodulano a qualsiasi forma di pensiero al posto nostro per molti modi è fantastico ma è come ragazzi se ci atrofizza io trovo questi articoli ragazzi così interessanti perché se ci guardiamo intorno ci possiamo rendere conto ragazzi che è assolutamente vero cioè è tutto così continuiamo ne parleremo comunque più avanti insomma occhi puntati su qualsiasi tipo di notifica delle mille app che abbiamo sugli smartphone orologi intelligenti una preoccupante fittizia iperconnessione con il mondo che ci slega dalla realtà di tutti i giorni il cervello umano è così costretto a trovare un nuovo assetto su una realtà differente da quella che l'evoluzione gli ha concesso fino a quando internet non ha preso il sopravvento su tutto lasciando per la strada facoltà fondamentali questo che significa ragazzi che ovviamente adesso stando costantemente in contatto con questi diavoli di smartphone il nostro cervello è costretto appunto come dice l'articolo a tipo rimodellarsi diciamo così su una realtà differente da quella cui l'essere umano ragazzi è sempre stato abituato cioè da quella in cui l'essere umano è effettivamente nato ci sarebbe a dire ragazzi la realtà che ci circonda invece è costretto appunto a riadattarsi a questa nuova realtà virtuale perché ragazzi purtroppo quella di internet è una realtà però è una realtà appunto fittizia una realtà virtuale quindi il nostro cervello deve cercare di adattarsi a questo nuovo diciamo modo di vivere tra virgolette e quindi questo fa in modo ragazzi che il cervello cambi cambi le proprie priorità cambi le proprie facoltà fondamentali rendendoci quindi più stupidi andiamo a vedere in che modo perché l'articolo si è suddiviso diciamo così l'hanno suddiviso in vari punti fondamentali che riguardano insomma tutta questa questione qua infatti dice abbiamo cercato di delineare i diversi studi e riflessioni di scienziati secondo cui la tecnologia degli ultimi decenni non ha fatto altro che modificare la conformazione del cervello umano per cui c'è qui l'indice ed hanno suddiviso le cose in cinque punti ben spiegati tra l'altro allora il primo dice addio pensiero lento è l'amberto maffei professore emerito di neuroscienze alla normale di pisa presidente dell'accademia dei lincei a consegnarci un quadro tanto preciso quanto tragico di quello che è da sempre considerato un organo lento il nostro cervello secondo i suoi studi la dipendenza dalla tecnologia sta modificando la struttura neuronale del cervello ora costretto a misurarsi con la super velocità del digitale per quanto possa sembrare assurdo ragazzi perché comunque il cervello è un organo che appunto esegue comandi insomma trasmette diciamo messaggi così tra virgolette a una velocità veramente impressionante nonostante questo comunque appunto il cervello è un organo lento perlomeno ragazzi rispetto a questa super velocità di oggi ragazzi cui siamo succubi il risultato è che il pensiero lento quello che si dedica alla riflessione profonda all'apprendimento e all'educazione va via via deperendosi si tratta di un cambiamento fisiologico a causa dei quali i neuroni del pensiero lento ragazzi sentite bene quindi si sta parlando proprio di un cambiamento a livello fisico quindi non tanto non solo a livello mentale di pensiero ma proprio a livello fisico cioè proprio della materia ragazzi fisiologica del nostro cervello infatti dice a causa del quale i neuroni proprio ragazzi proprio le cellule quindi del nostro cervello del pensiero lento quindi quello dedicato alla riflessione all'educazione e all'apprendimento si spengono sappiamo ragazzi che le cellule cerebrali sono se non sbaglio forse le uniche cellule in grado di non riformarsi quindi una volta ragazzi che un neurone si spegne non si riaccenderà più non si riformerà più non avrà più modo di riaccendersi quindi i neuroni del pensiero lento si spengono dando spazio al mondo super veloce di smartphone pc tablet e social media quindi qua parliamo proprio ragazzi di un cambiamento di uno spegnimento a livello proprio fisiologico del nostro cervello e questa cosa penso sia assolutamente terrificante quindi attenzione perché parlano di apprendimento ed educazione quindi che significa ragazzi che quando vediamo sti benedetti bambini ragazzi io ne ho visti ne vedo veramente decine pure al ristorante per esempio quando mi affaccio dalla cucina vedo decine decine di bambini dei più piccoli ragazzi che potranno avere tipo due anni un anno due anni decine di bambini piazzati con la faccia di fronte a questi benedetti telefoni ed è una cosa terrificante perché lo stiamo vedendo ragazzi sono piazzati davanti a sti telefoni da quando sono così piccoli che significa che i loro neuroni cominciano a spegnersi da quando sono così piccoli e pensandoci ragazzi è terrificante perché per esempio ragazzi io sento di persone che sono a contatto tutti i giorni con i ragazzini con i bambini con gli adolescenti di oggi e ne sento veramente ricotte di crude nel senso che io penso che proprio a livello fisico ragazzi questi ragazzini non abbiano modo di sviluppare appunto queste capacità fondamentali come capacità appunto di apprendimento di riflessione io penso anche di creatività perché ragazzi se voi sentiste quello che mi raccontano riguardo sti ragazzini vi mettereste le mani nei capelli infatti io mi metto le mani nei capelli perché non hanno la minima creatività non hanno la minima capacità di riflettere appunto sulle cose non hanno la minima capacità critica non veramente ragazzi il nulla il nulla più totale io sono sicura appunto come dice questo articolo che molta colpa di questa cosa sia appunto ragazzi di questi maledetti aggeggi a cui i genitori li sottopongono da quando sono veramente piccoli quindi è terrificante tutto ciò andiamo avanti due le notifiche attenzione sono come una droga ogni app sul telefono vuole inviarci delle notifiche col risultato che tutto quello che facciamo durante il giorno è toccare icone con punti rossi una ricerca della harvard university ha dimostrato che questa costante stimolazione da parte dei nostri dispositivi aumenta la dopamina nel cervello il che significa sostanzialmente che le notifiche vanno considerate al pari delle droghe ragazzi non prendiamo sotto gamba questa cosa perché è terrificante assolutamente il problema con la dipendenza dalle droghe è che proprio come le notifiche è davvero difficile da debellare farà stare bene per un momento ma rende anche ansiosi ecco perché una persona in media ragazzi sentite qua controlla il proprio smartphone 80 150 volte al giorno cioè ma di che stiamo a parlare cioè significa ragazzi stare veramente costantemente con questo cazzo di aggeggio in mano ma di che stiamo parlando c'è già solo 80 volte al giorno ragazzi cioè sapete che significa controllare il telefono 80 volte al giorno è tantissimo tantissimo ragazzi e va da sé che è difficile essere produttivi quando ti fermi a guardare il telefono ogni 10 12 minuti è vero ragazzi è una dannata dipendenza perché dove ragazzi allora basta andare in giro dove ti giri e ti giri in qualche modo in qualche momento dovunque tu sia vedrai qualcuno che sta guardando il telefono dovunque ragazzi vai a cena fuori sapete pure ripeto quante ne vedo al ristorante magari coppie che escono a cena e non si guardano manco in faccia perché tutte e due magari stanno guardando il telefono per me è terrificante ragazzi andiamo avanti punto 3 siamo iper connessi la pensa esattamente così il professore michael merzenich che in una puntata speciale di presa diretta ha spiegato le conseguenze neurologiche dell'utilizzo delle tecnologie nella media di 40 secondi appena saltiamo da una chat a una foto su instagram da un post all'altro di facebook da un link all'altro e siamo in una parola iper connessi tutto si può cliccare tutto si può scaricare e in un modo sempre più connesso l'attenzione va scemando queste sono le parole appunto di questo professore che dice fino a 40 anni fa noi scienziati pensavamo che il cervello fosse plastico nelle primissime fasi dell'infanzia ma una volta adulto diventasse esattamente come il computer che è sulla scrivania una macchina cablata in modo permanente che non poteva più essere alterata poteva solo deteriorarsi oggi sappiamo che è sbagliato il cervello è progettato per essere continuamente profondamente modificabile finché se in vita è la possibilità di cambiarlo in meglio o in peggio naturalmente nell'intervista il professore invita a riflettere su quello che stiamo facendo al nostro cervello noi tendiamo a pensare che qualsiasi cosa accada qui dentro vada bene e che il cervello sia sano finché ne abbiamo uno ma sappiamo talmente poco della correlazione tra la salute di questa macchina e quello che le provochiamo con le nostre azioni che pensiamo che qualsiasi invenzione tecnologica le buttiamo addosso sia innocua purché non ci uccida è falso la tecnologia ci sta cambiando e ci sta cambiando proprio nella testa pure questo è vero ragazzi nel senso che intende dire che magari questi aggeggi quindi la tecnologia non cambia soltanto magari menti giovani e plastiche come appunto quelle dei bambini o dei ragazzi ma anche quella ragazzi degli adulti quante ragazzi io quanti quarantenni cinquantenni vedo in giro ma anche persone più grandi anche persone di una certa età le vedi là appiccicate col ditino che scorrono le chat che scorrono la home di facebook ne vedo a bizzeffe ragazzi probabilmente anche voi ci basta guardarci in giro quindi non sta cambiando soltanto i bambini ragazzi ma sta cambiando e modificando e rendendo più stupidi anche gli adulti quindi indipendentemente dall'età che abbia il nostro cervello lo si può cambiare in peggio andiamo avanti punto 4 multitasking che guaio sapevamo già che usare più dispositivi contemporaneamente fa restringere il cervello ma nel suo libro di organized mind thinking strain in the age of information overload il neuroscienziato Daniel J. Levitin ha messo in luce che quando cerchiamo di concentrarci su più di un compito da un'email non letta agli sms dallo smartphone al collega che ci chiama il nostro QI si abbassa notevolmente e non solo anche uno studio condotto dall'università del Sussex pubblicato su Plus One che ha coinvolto un campione di 75 persone di circa 25 anni di età è arrivato allo stesso risultato ai partecipanti è stato somministrato un questionario sulle abitudini di utilizzo di diversi strumenti giornali, televisione, streaming tramite pc, sms, email, app su 40 di essi è stata poi eseguita una risonanza magnetica che è evidenziato come nelle persone più multitasking quindi quelli che più appunto utilizzano contemporaneamente queste cose vi fosse una quantità minore di materia grigia quindi parliamo proprio a livello fisico ragazzi nella corteccia cingolata anteriore l'area del cervello umano che controlla le funzionalità emotivo cognitive quindi sarebbe a dire ragazzi che c'è meno materia grigia nell'area del cervello che si occupa delle emozioni e quindi delle capacità cognitive sarebbe a dire tipo concentrazione, attenzione tutte queste robe qua terrificante ragazzi io continuo a dirlo è terrificante non abbiamo idea come ha detto il professore non abbiamo idea di cosa ci sta facendo questo aggeggio perché questo ha cominciato ad essere soprattutto ragazzi già da quando è subentato internet già da quando ha cominciato a resistere internet le cose hanno cominciato forse a precipitare come diceva prima l'articolo ma secondo me ragazzi il guaio più grosso ha cominciato ad essere proprio questo affare qua che tra l'altro ragazzi purtroppo è diventato parte integrante della nostra vita e senza il quale non possiamo più vivere ci rendiamo conto cioè provate a dire ragazzi a qualcuno di tornare ad avere uno di quei cellulari che facevano solo chiamate e inviavano soltanto messaggi è il dramma più totale no non esiste per quanto possa essere scrauso bisogna avere lo smartphone bisogna essere assolutamente costantemente collegati a internet costantemente ragazzi dalla mattina alla sera c'è chi non spegne il telefono chi non stacca internet durante la notte di che cazzo stiamo parlando ragazzi c'è sti affari sta tecnologia tutta questa velocità questa connessione questo avere a disposizione 3 miliardi di app 3 miliardi di informazioni al secondo ci sta modificando il cervello ci sta rendendo più stupidi proprio nel vero senso della parola per quanto invece sembri il contrario ragazzi quanta gente magari dice mio figlio è geniale mio figlio è geniale perché a due anni già sa usare lo smartphone non è intelligenza quella ragazzi perché magari un bambino che a due anni sa usare già lo smartphone e ti sa andare da un'app all'altra poi va a scuola ragazzi e non ti sa creare niente ragazzi ve lo giuro io ho sentito ne ho sentite di storie i compiti ragazzi i compiti che danno a scuola tipo crea un testo che ne so sulla tua giornata di ieri non te lo sanno fare ragazzi non te lo sanno fare e poi li vedi appiccicati a sti affari dalla mattina alla sera e non sono capaci di creare un testo dal nulla per questo appunto questo dice stanno sta intaccando le nostre funzionalità emotivo cognitive quindi anche la nostra capacità di provare emozioni ragazzi ma che dobbiamo diventare macchine dobbiamo diventare tutti psicopatici cioè che non sappiamo non sappiamo più provare emozioni dovremmo fermarci a pensare a ste cose ragazzi perché è vero è così è così ed è vero che è una droga che è una indipendenza ed è vero che ci ha aumentato l'ansia ragazzi l'ansia in una maniera esponenziale perché prima non c'era tutta stanza questo stress questo oddio non mi chiama oddio non mi risponde al messaggio oddio ha visualizzato e non mi ha risposto ma raga di che stiamo a parlare leggiamo l'ultimo punto dell'articolo dai ricordiamoci che ci connettiamo con la tecnologia ma non con le persone in un ristorante vi siete mai guardati intorno? io sì ragazzi ci lavoro spesso altro non è che una stanza piena di persone tutte sedute ai tavoli con presumibilmente altre persone che conoscono e hanno un certo livello di affetto che fissano uno schermo illuminato la tecnologia ha reso il mondo più piccolo in molti modi dandoci accesso a tutto anche per esempio la biblioteca di Alessandria d'Egitto ma ha anche aumentato lo spazio lo dico esponenzialmente ragazzi nelle nostre relazioni al punto in cui non ci parliamo più forse il primo passo è semplicemente riconoscere che più ci circondiamo di tecnologia più ne diventiamo dipendenti le conversazioni digitali sono molto diverse da quelle del mondo reale quando la tecnologia intelligente aiuta a rimuovere gli ostacoli alla comunicazione perché è assurdo ragazzi perché appunto ci ha permesso magari che ne so di parlare con un parente che vive in Australia in tempo reale quindi ci ha permesso di colmare spazi immensi ma quando sostituiamo la tecnologia con relazioni e conversazioni reali ciò può avere conseguenze devastanti nel mondo vero e qui finisce l'articolo tutto questo ragazzi dovrebbe davvero farci riflettere davvero farci riflettere perché arrivati a questo punto delle cose ragazzi in cui appunto si diventa schiavi della tecnologia fin da piccoli perché vi ripeto io ne vedo ragazzi ne vedo di bambini molto piccoli molto piccoli piazzati là coi telefoni già capaci di passare da una app all'altra questo è schiavitù ragazzi siamo schiavi di ste macchine siamo schiavi delle app delle notifiche di quello che la gente pensa di noi sui social e poi non siamo più in grado di incontrare qualcuno magari e che ne so di conoscere persone nuove dal vivo magari dal vivo ci prende il panico non siamo capaci più di trattenere conversazioni fra di noi è spaventoso raga è spaventoso vedere persone sedute l'un affianco all'altro non guardarsi in faccia non avere il minimo contatto umano non avere più niente per esempio ragazzi non so se avete guardato Wall-E il film della Pixar se non l'avete guardato guardatelo perché quel cartone ovviamente è una grossissima denuncia a quello che stava diventando allora perché comunque di un po' di anni fa è di quello che sarebbe diventata la società quindi una società in cui persone ragazzi una a fianco all'altra comunicano attraverso uno schermo guardatevi quel cartone perché è così che finiremo noi fidatevi finiremo di non voler manco più camminare di farci trasportare da delle macchine perché le macchine saranno capaci magari di farci arrivare da un posto all'altro senza doverci manco sforzare fisicamente e tutto ciò ci sta distaccando totalmente dalla realtà ci sta distaccando totalmente dalle nostre emozioni dai rapporti interpersonali e ci sta rendendo mostri secondo me ragazzi perché viviamo con l'ansia con l'ansia e questo ce l'ha portato ragazzi questa tecnologia qua perché una volta non si viveva con quest'ansia invece adesso sì l'ipervelocità vogliamo tutto e subito lo vogliamo tutto rapidamente ragazzi perché mi rendo conto anche io per esempio quando che ne so sto cercando una cosa sul cellulare su internet su google e magari in quel momento la connessione sta andando lenta mi nervosisco e mi dico oddio ma perché non si muove perché non va perché 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 continuo a dire ragazzi secondo me questo è assolutamente spaventoso ed è spaventoso quello che ci riserva il futuro io non so cosa ci riserverà il futuro la tecnologia di sicuro migliorerà promettendoci di migliorare il nostro stile di vita ma diventeremo sempre meno umani ragazzi e questa cosa fa paura fa paura perché probabilmente arriveremo a provare sempre meno emozioni e costringeremo il nostro cervello a concentrarci solo ed unicamente su questa realtà virtuale che non esiste che è totalmente fittizia ci promette cose false ragazzi recuperiamo un po' di umanità ci renti cioè stiamo sempre a sparlare sul fatto che l'essere umano è sempre meno umano ma questo è dovuto anche a questo ragazzi alla tecnologia che ci sta distaccando sempre di più dal mondo reale che ci circonda e dagli altri esseri umani e dalle nostre emozioni e questa cosa dovrebbe farci paura ma purtroppo purtroppo la tecnologia fa parte ragazzi di quel giro economico ovviamente su cui ruota ormai la nostra società e quindi figuriamoci semmai potremo rallentare o fermare tutto questo impossibile quindi io posso soltanto dire ragazzi di avere molta paura molta paura per come diventerà la società su come diventerà l'essere umano fra qualche anno ovviamente ragazzi aspetto impaziente i vostri pareri al riguardo niente avevo voglia di condividere questa paura con voi ovviamente il video sarà durato un'eternità vi chiedo scusa per questo ragazzi ma volevo parlarvene leggere questo articolo che era molto interessante questo video termina qui grazie a tutti un bacione buono ciao a tutti ragazzi da giocherina ciao